Tutti i voli delle principali compagnie aeree statunitensi, tra cui Delta, United e American Airlines, sono stati bloccati questa mattina a causa di un problema di comunicazione, come confermato dalla Federal Aviation Administration. Questo stop a terra riguarda tutti i voli, indipendentemente dalla destinazione. Al momento non è chiaro quanto durerà, ma è previsto un aggiornamento intorno alle 5 del mattino, ora dell'est americano. Questa interruzione segue un grave blackout di Microsoft, che ieri ha fermato i voli di Front Air Airlines per ore. Anche altre compagnie stanno affrontando difficoltà con i loro sistemi di prenotazione e gestione dei viaggi. Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema.